La notte rosa va in archivio, anche se lei ancora ha la camicia rosa, ma è stata una notte rosa importante anche proprio per i terremotati di Emilia, ai quali sono andati oltre che i nostri auguri, ma tanti contributi a livello economico. Come stanno andando sulle cose a Modena e a Cavezzo, Sessore? Diciamo innanzitutto che noi dobbiamo imparare, nel momento in cui ci divertiamo, nel momento in cui stiamo insieme, di pensare anche alle persone che sono meno fortunate, che possono essere appunto in questo caso i nostri fratelli dell'Emilia, ma possono essere anche le persone che hanno situazioni di disagio in casa. E dobbiamo farlo in questi momenti qui, perché pensare all'altro, che anche qualche momento di difficoltà, e pensarlo mentre stiamo facendo festa, mentre siamo allegri, è un modo per pensarlo alla distanza. Alla distanza è un modo per pensare ai nostri amici dell'Emilia, perché le cose piano piano vanno verso il meglio, ormai il censimento delle case, dell'agibilità delle case è finito, per cui c'è un rientro a casa, un rientro a casa non semplice, non semplice perché tutti hanno anche voglia di rientrare a casa, ma qualche scossettina ancora la dà, per cui c'è la paura, il terrore, e questi sono momenti complicati, difficili. E poi c'è tutto il percorso della ricostruzione, delle attività economiche, delle scuole. Le scuole sono appena finite, ma a settembre è veramente dietro l'angolo, per quei tanti che purtroppo la casa ce l'hanno distrutta, non agibile. Per cui è un lavoro lungo, non è una corsa, è una maratona, bisogna arrivare lontani, per cui impariamo veramente, anche quando le televisioni, i nostri giornali, non parleranno più dei nostri amici emiliani, di continuare a ricordarci di loro, magari facendo un'offerta in uno dei tanti correnti postali che sono stati aperti, la provincia ne è uno di questi, pensate alle associazioni di cui vi fidate di più, però mi raccomando teniamo i riflettori accesi verso i fratelli dell'Emilia, perché ne avranno bisogno per degli anni. Grazie.